Salve e benvenuti! Manca poco all'inizio della partita, quindi cedo subito la parola a Mauro Sandreani per un breve commento tecnico. Un saluto a te e a tutti gli spettatori sintonizzati su questo canale. È un onore poter commentare questa partita. Tutto è pronto per il calcio d'inizio. Siamo ancora le prime battute di questa stagione e c'è tutto il tempo per dimostrare il proprio valore. Sono sicuro però che entrambi gli allenatori avranno spronato i loro ragazzi. Partita che ha inizio. Speriamo di assistere ad un incontro esaltante. Fantastica partita. Ci sono tantissimi bravi giocatori qui. Molto difficile dire come andrà a finire. Penso che vincerà semplicemente chi avrà più fan. Migliaccio, Barzagli, Bresciano. C'è spazio sulla fascia. Non ho stagliato a uscire. Forse è una perdita di concentrazione qui. L'ha messa a lato. Ha crossato in maniera perfetta. Sarebbe bastato un tocco per spingere la palla in rete. La conclusione che abbiamo visto sottoporta, invece, vanifica quanto di buono fatto dal compagno sulla fascia. David Suasso. Burdisso. Kivu. Passaggio filtrante. Lielari data. Per Kivu. Verso Materazzi. che stoccata in volo. Che rete. Sono stati rapidissimi. Hanno segnato il primo gol della partita entro cinque minuti dall'inizio. Sono partiti a razzo. Ed entra dopo aver colpito il palo sinistro. Secondo me voleva tirarla lì. uno a zero. Sono riusciti a passare in vantaggio. Ora faranno di tutto per mantenerlo. Diana. Bresciano. stanno quantomeno producendo gioco. Ma devono essere più incisivi e finalizzare il prima possibile per cercare di recuperare la partita. Ha allontanato la minaccia. Luis Chimenez. Se calcia bene nel mezzo. Può arrivare un altro gol. La gioca su. Bresciano. Ibraimovic. Maicon. Burdisso. Materazzi. Kivu. Verso Dacour. Verso Cambiasso. Il portiere esce a branca in presa. Amaury sta cercando di aprire la difesa. Deve crossare bene qui. Stanno cercando in tutti i modi di pareggiare. Luis Chimenez. David Suasso. Ha segnato un gol in questa partita. Deve mettere alla prova il portiere qui. È stata respinta dal portiere. Calcio d'angolo. Viaggia sul primo palo. Nuova possibilità di colpire. Troverà lo spazio di cui ha bisogno. È spazzata via. Oltre la linea per una rimessa laterale. No. È stato intercettato. Migliaccio. Fabio Simplizio. Non riescono ad intendersi. Va a terra. Ma l'arbitro dice che si può continuare. Diana. Sembrava fosse stato messo giù. Non è arrivato alcun fischio. Ibraimovic. Barzagli. Mantengono bene il possesso palla. Sperando di aprire e di infilare poi la difesa Bresciano. Bresciano. Profumo di gol qui. Hanno fatto tutto il possibile per tenere la palla fuori dall'area di rigore. Ha fatto bene. Ancora il pallone. Kivu. Ibraimovic. Luis Jimenez. Viava. Fabio Simplizio. Stanno spingendosi in avanti adesso. Per rimanere in partita hanno bisogno di un'invenzione dei loro bomber. Pizzano. Barzagli. Viava. Cassani. Indirizzato sul dischetto del rigore. Bresciano. Bresciano. Hanno ancora molto da fare da questa posizione. Cerca la porta. Buon controllo. Ma il portiere non si è fatto sorprendere. Sono trascorsi 15 minuti. Luis Jimenez. Bresciano. Migliaccio. Diana. Fabio Simplizio. Diana. Verticalizza. Ce la farà a mantenere il controllo? Palla intercettata e tentativo d'attacco bloccato. E adesso il gioco si spinge in avanti. Sfruttano la fascia. Grande intervento e minaccia sventata. Luis Jimenez. La gioca indietro al portiere. Per cambiasso. Luis Jimenez. Passaggio largo sulla fascia. Potente ma non preciso. Il difensore è stato preso in giro e superato da questo gioco di prestigio. Fortunatamente per lui il conseguente tiro dell'attaccante non è andato a segno. Amauri. Amauri. Facilmente intuibile. Ha intuito la direzione del passaggio e l'ha intercettato. Bresciano. Non ha nessuno che lo aiuti in questo caso. Presa sicura del portiere. Cambiasso. Burdisso. Maicon. Completamente fuori misura. Migliaccio. Bella palla sulla fascia. È una palla interessante. La difesa ha fatto bene fino a questo momento. Bresciano. La spinge in avanti. Adesso la palla in suo possesso. Barzagli. Migliaccio. Cassani. Diana. Migliaccio. La batte in avanti. Stanno avanzando molto bene lungo la corsia. Eccolo. Porterà al pareggio. Hanno fatto tutto il possibile per tenere la palla fuori dall'area di rigore. Il portiere ha effettuato una gran respinta. Punizione concessa dall'arbitro. Sceglie il lancio lungo. Sceglie il lancio lungo. Cassani. Materazzi. Materazzi. Buon possesso palla. L'equazione è semplice. L'equazione è semplice. Fino a quando tieni in mano il pallino del gioco, gli avversari non riescono a metterti di difficoltà. Per Kivu. Palla riconquistata qui. Conquistata la grande. Minaccia sventata. Difesa solida in questo caso. Si riprenderà con una rimessa laterale. Ha spostato bene il pallone da un lato all'altro del campo. Quasi 30 minuti se ne sono andati. Riuscirà a trovare lo spazio di cui ha bisogno. È stata preda del portiere. Luiz Jimenez. David Suasso. Ha vinto questo duello aereo. Migliaccio. Viava. Barzagli. Pisano. Barzagli. Viava. Migliaccio. Mantiene il possesso. Il portiere riceve il passaggio. Barzagli. Pisano. Una rete di passaggio a dir poco spettacolare. E i centrocampisti avversari non possono che rimanere a guardare. Riuscirà a tirare a colpo sicuro? È una palla interessante. L'uscita del portiere. Fabio Simplizio. Barzagli. Bresciano. Mantengono il possesso palla in mezzo al campo. Ma non riescono a trovare Varchi per spingersi nell'area avversaria. Sposta il gioco dall'altra parte del campo. Hanno riconquistato palla. Stiamo ammirando un'ottima circolazione di palla. Che presto potrebbe dare i suoi frutti. Migliaccio. Bresciano. 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 E adesso una rimessa laterale. D'accordo. Penso che adesso si apriranno alcuni spazi. Bresciano. Fabio Simplizio. Migliaccio. Bresciano. Palla senza pretese intercettata. Adesso ha una possibilità per piazzare un cross. Ha messo la palla in mezzo. Diana. Sceglie un lungo lancio in avanti. Amauri. Bresciano. Il difensore è sceso in avanti per una sola posizione. Buona mossa. Calcio d'angolo. Buon pressing della difesa in questa occasione. sta cercando di cambiare le cose. Perfetta per uno stacco di testa. Hanno fatto tutto il possibile per tenere la palla fuori dall'area di rigore. Gran sinistro è suo. Ma non era abbastanza angolato per battere il portiere. Kivu. David Swasson. David Swasson. Cerca la porta. Un'altra rete. Il momento giusto per segnare. Saranno soddisfatti di essere in vantaggio di due gol. Grandissima precisione dell'attaccante nel mettere il pallone a sinistra. Gli è stato concesso tempo e spazio per girarsi e quando lo lasciano libero è difficile che sbagli. Il suo allenatore sarà assolutamente estasiato dagli ultimi minuti di partita. Pochi istanti dopo aver segnato il suo primo gol ha concesso il bis. 2-0 ora. Stanno prendendo il largo. Ok, hanno aumentato il loro vantaggio. Ma conoscendo l'allenatore è dubito che toglieranno il piede dall'acceleratore. Vorranno certamente continuare così, lanciare gli attaccanti verso un altro gol e chiudere il conto. Fabio Simplizio. Cerca il gol. Ha respinto benissimo di pugno. Il portiere l'ha salvata ma l'ha messa in angolo. I tifosi dietro la porta stanno incitando a gran voce la squadra perché questo angolo si trasforma in un gol. E il corner è facile di prendere il portiere. Uno stacco di testa poderoso e imponente. Fantastico pallone filtrante. Nessuna possibilità di prendere la palla. Punizione. Fabio Simplizio. Pisano. Migliaccio. Gran lavoro per conquistare il pallone. La lancia lunga. Hanno ottenuto una rimessa laterale. Kivu. E la dà indietro. Diana. Conquistata magnificamente qui. Questa potrebbe essere l'ultima azione della partita. ha perso il possesso palla. Verso Ibrahimovic. Per Dacour. Per Kivu. Siamo all'intervallo. Entrambe le squadre si dirigono negli spogliatoi. Gli allenatori sono già pronti per discutere le nuove direttive tecniche. Punteggio incredibile. A guardare il possesso palla sembrerebbe di aver assistito un'altra partita. Penso che adesso dovranno fare attenzione alla fase difensiva. Mentre i tifosi prendono fiato, 2-0 è il punteggio, come ci ricorda il tabellone luminoso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I secondi 45 minuti di gioco hanno inizio. Cosa dobbiamo aspettarci da questa ripresa? Luis Jimenez. Troverà lo spazio? Verso Dacour. Calcerà? Il portiere la controlla. Migliaccio. Cambiasso. Dacour. Deve mettere un buon pallone in mezzo. L'ha rubata. Bloccata dal difensore. Ibraimovic. Uh, forse l'ha colpita male, ma di certo è uscita ampiamente a lato sulla destra. Un tiro assolutamente impreciso. Anche se il vantaggio di due gol è rassicurante, i tifosi gradirebbero vedere qualche gol in più. Amaury. ha vinto questo duello aereo. Sulla palla adesso. Diana. Ci potrebbe essere un'opportunità qui. Beh, ha provato il tiro, ma non ha fatto centro. Avrebbe potuto passarla, ma ha deciso di fare tutto da solo. Brutta decisione, probabilmente. Luiz Ximenez. Intervento in ritardo. È lontano per tentare direttamente la battuta a rete. Ce la farà a mantenere il controllo? Senza problemi tra le braccio del portiere. Amauri. Tenta di segnare. Gran sinistro il suo, ma non era abbastanza angolato per battere il portiere. Luis Ximenez. Un buon rinvio allontana il pericolo. Materazzi. Burdisso. I difensori fanno circolare il pallone sapientemente. In questo modo è più facile dare il via ad un'azione pericolosa. Palla riconquistata qui. Palla riconquistata qui. Migliaccio. Diana. Campionano. Cambiasso. Luis Ximenez. Ibrahimovic. Luis Ximenez. Verso Dacour. Verso Cambiasso. Hanno riconquistato palla Maikon Verso Ibrahimović Per Kivu Manca la precisione Migliaccio David Suasso Due gol per mantenere la sua fama Fabio Simplicio I difensori sono affannati E faticano a tenere le marcature Se la difesa non viene registrata all'istante Il rischio di subire un gol sarà molto alto Nei prossimi minuti Adesso la palla in suo possesso Fabio Simplicio Migliaccio Oh ecco che arriva in avanti Come un fulmine dalla retrovie La colpisce ancora La colpita male Ben lontana dal palo destro Si doveva aspettare un vehemente contrasto da parte della difesa avversaria Non è riuscito a concludere come voleva Forte nel gioco aereo David Suasso Cassani La batte lunga Pallone buttato Un'ora di gioco Adesso sono in possesso palla Possono mettere una buona palla in mezzo Adesso è nell'area di rigore Quello è fallo Sarà rigore Era fuori dall'area Un'altra opportunità per segnare qui Diretta in porta E' stata messa fuori Restituita al portiere Bella palla filtrante in mezzo Colpita Ha respinto Via di pugno Il portiere non è riuscito a bloccarla E l'ha messa in angolo Cross in area Nessuno ha cercato di togliere la palla al portiere L'ha vista arrivare per primo Kivu La spinge in avanti Ibraimovic Migliaccio La vuole di nuovo Diava Diana Possibilità in area Basso Il loro allenatore ha deciso di cambiare le cose Amauri Cassani La giocata lunga Nessuno può intercettare quel passaggio Materazzi Maicon Dacour La lancia lunga David Suasso Senza problemi tra le braccia del portiere Diana Amauri Il passaggio filtrante ha creato scompiglio Si è guadagnato il possesso per fermare l'attacco Dacour Fabio Simplizio Migliaccio Cosa farà qui? Respinta di pugno Il portiere l'ha deviata Quindi è corner Sarà interessante capire come la decisione dell'allenatore potrà cambiare la partita Pallone perfetto per un colpo di testa Cosa ha fatto? Possesso perso qui Barzagli Sceglie il lancio lungo Capuano Ha riconquistato il pallone in modo eccellente Maicon La spinge in avanti David Suasso Fabio Simplizio Migliaccio Ecco un intervento in ritardo Ibraimovic Ibraimovic Ci sono i presupposti per un attacco Bella palla filtrante Filtra in area di rigore Ibraimovic Fuori Davvero troppo alto Non c'era bisogno di affrettare la conclusione Hanno già un buon margine di vantaggio Maxwell E' un buon margine di vantaggio giocano il pallone a metà campo con grande tranquillità sembra quasi un torello adesso lungo pallone in avanti impatto di testa verso la rete tiro fuori bersaglio è il loro secondo cambio della partita potrebbe essere una mossa per registrare la difesa vogliono mantenere il vantaggio a tutti i costi ha vinto nettamente questo duello aereo Barzagli il difensore l'ha intercettato Luis Jimenez era nel posto giusto per intercettarla ci avviciniamo agli ultimi 15 minuti dell'incontro ha vinto questo duello aereo l'ha passata indietro al portiere non riescono a trovare il modo di superare la difesa ottimo recupero qui troverà lo spazio la colpisce il portiere ha seguito con lo sguardo il pallone uscire alla sinistra del palo questa occasione affrettata farà irritare tecnico e tifosi aveva tempo per concludere diversamente ibrahimovic cambiasso una rete di passaggi a dir poco spettacolare e i centrocampisti avversari non possono che rimanere a guardare Cassani Biava Diana Cassani messa dentro scavalcando la difesa riuscirà a segnare? intervento corretto dice l'arbitro riuscirà a tenerla? il portiere la controlla migliaccio migliaccio Maxwell nuova possibilità di colpire azione molto importante in questo caso D'Acur Amauri migliaccio opportunità per tirare in porta Pium e dentro sarà entusiasta per aver segnato questo incredibile gol si è liberato stupendamente della difesa ed ha potuto così inquadrare al meglio la porta forse il portiere avrebbe potuto respingere meglio ma bisogna dare merito all'attaccante ha visto la possibilità di segnare ed è stato ricompensato per la sua prontezza a l'alta 2 a 1 sono in vantaggio di una marcatura bisogna dire che la loro difesa deve essere molto più rapida rispetto a quanto si è visto finora nessuna squadra può permettersi di subir gol come questi se vuole vincere adesso ci aspetta un finale palpitante il portiere riesce a parare Cruz e cerca un compagno smarcato ha tentato di crossare ma nessuno ha potuto raggiungere la palla Amauri Barzagli Biava Migliaccio Amauri la difesa può controllare senza problemi in mezzo liberata liberata riconquista il pallone Diana ecco un'altra opportunità adesso in area è stata allontanata Ibrahimović sembrava fosse stato messo giù ma non è arrivato alcun fischio stanno lentamente e faticosamente pensando a come costruire un'azione pericolosa qui più a lungo hanno la palla fra i piedi più si allontana la possibilità che gli avversari possano segnare la cura di da cura Ivan Cordoba quasi impossibile da fermare quando è in velocità Fabio Simplizio Giovanni Tedesco c'è una chance per un cross qui attacco vanificato solo un gol divide le due squadre quando mancano pochi minuti al fischio finale la difesa avversaria alle corde stanno manovrando nei pressi dell'aria in attesa del barco giusto Fabio Simplizio Giovanni Tedesco che le dici di questo? il portiere ha effettuato una gran respinta ben fatto per conquistare il possesso no, è stato... chiaro fallo qui Luis Jimenez ha firmato un assist fino a questo momento riuscirà a trovare un compagno libero a centro area il cross è stato deviato dal difensore ed è stato concesso un calcio d'angolo cross alto in corsa di testa possono provarci ancora la indirizzarete fantastica giocata difensiva nella sua area Fabio Simplizio Capuano Biava Migliaccio Barzagli gran lavoro per conquistare il pallone fantastico pallone filtrante conquistata magnificamente qui no, è stato intercettato Barzagli stanno facendo circolare il pallone con sicurezza col meno di un... l'arbitro dice che può bastare così e manda tutti negli spogliatoi il risultato rispecchia la loro splendida prestazione di oggi hanno vinto la partita giocando in modo assolutamente perfetto e i tifosi sono letteralmente in delirio dopo questo trionfo stanno dimostrando di avere una grande condizione migliorata di prestazione in prestazione questo può essere una buona premessa per proseguire la striscia positiva una partita favolosa per tutti gli appassionati gol su entrambi i fronti e sprazzi di grande calcio avrebbero potuto vincere entrambe prima di lasciare lo stadio c'è il tempo per ringraziare Mauro Sandreani per la sua analisi di questa sera 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 la sua analisi di questa sera per la sua analisi il passo a wandò per la sua analisi di questa editora